buongiorno a tutti questo è mettiamoci la voce io sono maria grazia io sono francesco io sono sandro oggi ci vediamo ci sentiamo siamo in presenzissima neanche in presenza sono emozionato ci mancava questa dimensione abbiamo appena finito di registrare un contenuto per mettiamoci la voce academy quindi siamo qua in ufficio in studio a a vederci finalmente e oggi il tema a proposto francesco ma come sempre prendiamo spunto da da fatti che ci accadono intorno per come argomenti che possiamo affrontare relativamente alla voce questa volta ci ha un po ispirato un paio di percorsi del nostro academist uno e un altro di una notizia di cronaca riguarda leggere testi propri o comunque quando il lettore a voce alta si trova a leggere dei testi che vuoi perché appunto ha scritto lui vuoi perché si trova molto legato anche affettivamente al testo che a cui sta dando voce e quindi che cosa succede alla voce che cosa può accadere allarghiamo magari non solo il lettore a voce alta ma o meglio non solo il lettore a voce alta in senso stretto quello che ci immagineremmo come il lettore a voce alta per l'antonomasia ma anche chiunque produca contenuti certo propri cioè basandosi su 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 testi che scrive per sé o che gli arrivano da persone molto vicine quindi non solo il lettore inteso come il quello che prende un testo di narrativa per dare da restituire a qualcun altro ma anche appunto chi scrive i propri testi proprio script per un podcast o per un video ad esempio o chi si trova a recitare o a leggere in pubblico un proprio testo che magari narrativa non è magari è un saggio magari è un è un contributo scritto per per il libro di qualcun altro che quindi secondo me allarga molto gli orizzonti perché a questo punto non parliamo soltanto di coinvolgimento emotivo no no che scrivere qualcosa che ci tocchi che ci appartiene eccetera può muovere anche le emozioni però se invece parliamo di una relazione ovviamente quello che muove è altro anche le emozioni anche in quel caso le emozioni perché comunque ci sono tutto tutto il mondo delle aspettative esatto perché se io scrivo un racconto qualsiasi cosa che nella quale nella quale prosa ho messo sentimenti emozioni eccetera questo muove una certa sfera se invece la sfera che sto toccando col mio scritto è più razionale più informativa allora però quel che ha come ricaduta è eventualmente il rapporto con chi mi ascolta anche se non è un rapporto live infatti infatti va di allargando ulteriormente quello che giustamente diceva prima sandro possiamo anche argomentare su nel caso in cui sostanzialmente non si tratta proprio solo di leggere ma anche a volte di portare dei contenuti a voce che sono propri tipo un esempio classico è quello del formatore formatore prepara o un public speaker prepara un testo che è il suo e poi lo porta ad un pubblico sì poi qua lasciamo stare non apriamo magari questo capitolo in senso proprio esteso ma citiamolo solo tutto il grande mondo della sindrome dell'impostore da una parte e dell'effetto danning kruger dall'altra ovvero sindrome dell'impostore quella per cui io penso di non essere mai adeguato al al compito che sono chiamato a svolgere e dall'altra parte l'effetto danning kruger è che chi non è adeguato a farlo invece spesso sovrastima le proprie competenze rispetto a un dato argomento le due facce della medaglia però c'è anche quello perché quando io non mi sento adeguato al compito che sono chiamato a svolgere ovviamente questa cosa avrà una ricaduta un impatto un effetto su quello che che è il mio proporlo agli altri perché come dice spesso voi se non ci credo come si dice a teatro se non ci credo io perché ci dovrebbero chiedere credere gli altri ma maggior ragione a me sono un concesso che io gli argomenti ce li abbia i temi ce li abbia e l'abbia pure scritto bene ma se io lo percepisco se io non penso in primis di stare di stare dando qualcosa di valore al mio interlocutore probabilmente questo arriverà dal dal mio paraverbale sicuramente non dal verbale perché l'avrò scritto bene ma dal paraverbale si evincerà ci sarà qualcosa che stona e mi ama quello non mi convince qua è tipo guzzanti quando faceva il capo il boss rinchiuso nel carcere di massima sicurezza che ricusava tutti i giudici che tiene la faccia della sentenza non mi piace che cambiamolo ecco visto che hai citato il teatro allora faccio una digressione anch'io a volte si pensa che quando l'attore l'attrice è anche l'autore del testo sia facilitato in questa cosa non la trovo cioè non è così semplice non voglio dire non è così automatico perché comunque per quanto in quel momento io attrice stia leggendo stia recitando qualcosa che è facciamo un'ipotesi macroscopica che che è la mia vita comunque io in quel momento sono un'attrice che recita non so come dire un testo scritto da me che parla di me ma c'è un filtro e questo discorso dei filtri c'è secondo me un po sempre il filtro che cos'è è il mezzo è proprio il mezzo nel teatro un mezzo particolare d'accordo ma tu sei un medium appunto fra le parole e il pubblico ma in qualche modo anche in comunicazione anche quando anche quando leggiamo ad alta voce abbiamo detto tante volte non è teatro no non necessariamente per lo meno cioè c'è comunque ci sono comunque dei filtri che secondo me vanno anche un po' rispettati oltre che considerati beh oltre ad essere rispettati ce li devi mettere perché sono due momenti diversi cioè bravo ai ruoli diversi che richiedono tempi di svolgimento anche e momenti diversi nel momento in cui scrivi 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 considerando che cioè il fatto di aver presente tutta la filiera è un vantaggio perché tu sai cosa succederà dopo e puoi intervenire prima però sono momenti diversi sono momenti staccati e l'altra cosa importante è che comunque poi devi in quel momento ricoprire un ruolo differente di volta in volta in un momento sei l'autore in un altro momento sei l'interprete in questo senso ti dicevo che non è vero non è così vero per lo meno per me non lo è quello che si pensa che recitare un testo proprio sia più semplice partiamo da un punto di vista qua chiamo in causa anche francesco ovvero partiamo dall effetto pragmatico la persona che sta ascoltando che sta guardando o che ci sta comunque che sta fruendo il nostro contenuto gliene frega qualcosa di sapere che siamo noi gli autori o meno dal punto di vista della dell'efficacia del testo non parlo non parlo dal punto di vista del contenuto dal punto di vista del contenuto certo che gli interessa è ovvio perché se viene a sentire noi potrebbe essere che lo venga a fare perché vuole sentire parlare noi vero ma dal punto di vista dell'efficacia del testo gliene frega qualcosa che l'abbiamo scritto noi o meno se vado a sentire se vado a seguire uno spettacolo a teatro e lo spettacolo non mi piace non è che dico ah no però l'ha scritto lui quindi è me quindi forse è una considerazione che posso fare a posteriori posso dire ok non mi è piaciuto perché era recitato male ma le idee erano interessanti oppure mi sembrava scritto bene ma comunque la prima impressione che avrò sarà negativa sarà un ma non mi piace cioè mettiamolo che mettiamo il fatto che può essere un moltiplicatore il fatto di essere autore del proprio testo in negativo in positivo giustamente guardavi dal punto di vista del pubblico dal punto di vista proprio dell'autore io ho avuto il privilegio di 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 trovarmi a rappresentare in scena come attore due due testi che avevo scritto io ebbene secondo la mia esperienza io mentre stavo recitando assolutamente non non mi ricordavo proprio di essere l'autore del testo ma proprio per niente tanto che mi sono quasi stupito ricordo l'aneddoto quando alla fine dallo spettacolo è stato detto il mio nome come autore e io ho detto ma già è vero ma non era proprio un vezzo è assolutamente perché erano proprio due cose di differenti proprio d'altro canto e questo eravamo in un contesto teatrale d'altro canto ho avuto anche il privilegio di fare formazione in cui cioè sostanzialmente portavo dei contenuti che avevo scritto io anche se non le leggevo direttamente e allora lì era diverso perché io credo ma magari chiediamo a maria grazia cioè che nel primo caso nel caso teatrale come dicevi anche tu sandro io l'attore era il personaggio e quindi direi di sì eccoci nel frattempo visto che il bello della diretta che questa volta non siamo in diretta ma il bello della diretta è che è mancata la corrente esatto siamo piombati nelle tezze prima natalizio siamo piombati perché stiamo arrivando a Natale a Natale sì del 2021 Natale 2021 siamo al 19 oggi oggi 19 dicembre 2021 ed è mancata ed è mancata la luce perché era molto silent night no niente stavo raccontando della doppia valenza diciamo come autore sia teatrale in cui appunto essendo anche attore non sentivo proprio il fatto di sentirmi come autore cioè ormai era finito io avevo già scritto e stavo recitando anche perché scusa se ti interrompo ma c'è da considerare che tra la scrittura e l'esibizione diciamo così dell'attore c'è in mezzo tutta una serie di attività e come e come sono quelli che riguardano la preparazione dello spettacolo quindi non dico che sia un diaframma che si crea però comunque è un percorso un distacco sicuramente è un percorso che stacca certo sì 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 stacca ma riavvicina anche in qualche modo al testo ma da un altro punto di vista sì 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 e invece la seconda diciamo situazione in cui mi sono trovato ad essere comunque autore di contenuti però non dal punto di vista teatrale è come a tanti capita appunto di fare formazione è vero che non leggevo e non leggo testi miei quando faccio un corso di formazione però indubbiamente i contenuti sono i miei e per cui sono comunque anche autore e lì sento la differenza rispetto alla recitazione in cui appunto lì mi potevo riscondere sul personaggio mentre sul formatore dici vabbè è comunque poi si governa ci mancherebbe però sicuramente è un mettersi in gioco più 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 difficoltoso e la cosa più difficile probabilmente però è appunto quella del produrre testi per essere immediatamente portati alle orecchie delle persone per cui quello in effetti la lettura sì ma la lettura di un testo proprio che diventa immediatamente qualcosa da portare alle orecchie appunto che non passa in mezzo a una produzione teatrale che quindi lo trasforma in un certo senso trasforma il testo da pagina scritta a qualcosa che le persone devono portare in scena se io scrivo un testo invece da recitare immediatamente magari farlo proprio io diventa molto ostico probabilmente proprio perché non passi in mezzo ad un processo di distacco il fatto di essere autore ed attore però ti porta a confrontarti sul tuo testo con altre persone perché comunque non puoi farti lo spettacolo teatrale da solo hai comunque bisogno di un team che ti aiuti anche se tu sei autore, regista e attore del tuo spettacolo però hai lo scenografo, il tecnico luci un aiuto regista che comunque sia lì quando tu sei sul palco che ti dica guarda più così più cosà e quindi questo ti aiuta secondo me ti da un processo di ti crea un processo di distacco rispetto al tuo testo senza contare che nel testo più informativo secondo me entra in gioco anche un parametro che non credo che sia dell'autore del letterato insomma che è il concetto dell'efficacia cioè se io scrivo un testo comunque prendo degli appunti per comunicare qualcosa in un ambito appunto divulgativo, formativo il problema dell'efficacia me lo pongo mentre un testo di tipo più artistico avrà altre domande sotto credo perché comunque metti in conto anche che possa non piacere ma piacere non piacere è un'altra categoria invece se io tengo un corso mi pongo il problema di arrivare all'obiettivo didattico certo ma anche se scrivo un testo che non ha un obiettivo formativo ma un obiettivo emozionale probabilmente anzi l'investimento emotivo può essere un problema cioè io scrivo un testo su qualcosa che a me sta particolarmente a cuore che sia formativo o informativo cioè che sia formativo, informativo o intrattenimento poco cambia ma io scrivo un testo su qualcosa che a me sta particolarmente a cuore qual è l'obiettivo recondito che poi di solito difficilmente è espresso è che gli altri diano la stessa importanza e provino le stesse emozioni che ho provato io o che voglio far capire di aver provato arrivare a loro quindi c'è sempre anche la dimensione dell'ascolto ma nel modo sbagliato l'ascolto deve dire ma avranno capito sarà arrivato ma l'avranno capito che questa cosa per me era importante questo secondo me è entrato in gioco nei poeti che leggono a meno che non siano dei forti narcisisti che quindi vanno e non mi importa nulla o professionisti inteso come più lettore tu dici che ma secondo me anche se sei abituato a leggere in pubblico se leggi poesia la poesia è un prodotto che ha che fare molto con l'interiorità poi è logico che la modalità è diversa secondo non dello stile dell'epoca ma proprio dell'individualità della persona perché ci sono probabilmente poeti che hanno ci sono alcuni poeti che hanno anche come dire formazione e girano nell'ambito della performance quindi badano di più anche forse a un certo tipo una certa modalità di porgere però se sei l'autore che adesso io ho detto il poeta potrebbe valere anche per chi scrive racconti e romanzi che decide di leggere magari in pubblico a una presentazione o a un concorso o a non so cosa un proprio brano e lì in effetti porti qualcosa di tuo immediatamente senza come dicevi tu senza diaframmi senza è però appunto l'aspettativa non sempre è un anzi quasi mai è una buona compagna di viaggio perché appunto avere l'aspettativa che gli altri percepiscano la profondità l'importanza il peso no 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 è impossibile e un'altra ricaduta importante è il fatto che se tu porti qualcosa che veramente fa parte della tua interiorità che nel momento in cui la offri agli altri sì non è già più tua quello ma che intervenga anche proprio l'emotività oltre che l'emozione sì e che quindi non so faccio un esempio banale leggo una poesia che per me ha a che fare con un momento drammatico della mia vita mi commuovo che ci può stare perché per carità non è detta che però se l'emotività porta tanto fuori allora come sappiamo la voce non mente quindi la voce va dietro eh ma anche lì immaginiamoci sempre e ricordiamoci sempre del contesto in alcuni contesti il fatto di essersi di emozionarsi leggendo un testo lo lo valorizza in altri casi lo lo depaupera cioè gli toglie valore perché l'attore che che va sul palco che che il testo sia suo o meno poco importa ma l'attore che va sul palco a recitare un monologo e mentre lo sta recitando si commuove eh sì perché non dovrebbe commuoversi l'attore se è il personaggio che si commuove è un conto ma l'attore non può è un fatto anche di come sai gestirle quello sicuro però dico un attore più abituato forse a gestire magari un autore che occasionalmente soltanto occasionalmente legga qualcosa in pubblico e si lasci eh però quello ripeto è proprio quello che cercavo di dire in un contesto l'autore se è identificato come l'autore che si trova in in circostanza occasionale a leggere e magari neanche ne è tutto preparata ed è chiaro questo per il pubblico a leggere un proprio testo al pubblico e si commuove ma probabilmente lo amplifica molto anzi ma deve essere chiaro che è l'autore che lo sta leggendo in un contesto assolutamente non preparato non preordinato e e non è lì per quella cosa secondo me infatti non il rischio non è per il pubblico che anzi semmai guarda la cosa con un occhio indulgente è per il legge che potrebbe essere pre eh però sull'occhio indulgente appunto non sono così d'accordo sull'occhio indulgente perché l'occhio indulgente ce l'hai quando è quando tu ti immagini di essere al suo posto e allora anche tu lo vivi con indulgenza ad esempio appunto io autore ho il mio testo sotto mano ve ne leggo un brano e mi commuovo perché mi smuove talmente tanto da quello probabilmente il pubblico lo apprezza e ce lo riporta come feedback positivo in altri contesti dove io magari vado a fruire a fruire quel contenuto se non riesco a fruirlo al meglio perché in un dato momento succede qualcosa che non dovrebbe succedere come l'interprete che l'interprete che in un certo momento si stoppa e come si dice le lingue al magone cioè e non riesce ad andare avanti perché si commuove può anche saperlo gestire molto bene e magari se la porta a casa lo stesso però di base è un elemento di disturbo invece per cui bisogna sempre probabilmente riuscire a costruire anche il contesto giusto per darsi modo anche eventualmente di potersi concedere la possibilità di di emozionarsi il contesto è testo perché noi primariamente abbiamo messo l'accento sui sui testo scritto proprio da semedesimo però questa dinamica può anche investire colui il quale si trova a leggere un testo non suo ma di una fortissima carica emotiva che lo tocca proprio tanto e quindi questo lo porta a commuoversi lì anche lì siamo al discorso del contesto magari sei nell'ambito di un'associazione dei soci così e può essere visto con benevolenza questa partecipazione emotiva da parte di chi legge in quel momento o di chi parla di questo testo in altri contesti magari meno per semplificare potrebbe essere ti è giustificato quando tu non sei il mezzo cioè ripeto un attimo ti è giustificato quando tu non sei il mezzo cioè quando tu sei identificato col testo è giustificabile ed è giustificato quando tu sei solo un tramite tra il testo e il pubblico che tu sia l'autore o non sia l'autore frega niente a nessuno sì sì c'è da dire che comunque è vero che il contesto fa la differenza perché se è un contesto in cui io comunque l'atto è un atto più tra virgolettone performativo e ho avuto il modo e il tempo di prepararmi la mia lettura forse magari questo mi aiuta anche a fronteggiare eventualmente una reazione emotiva e quindi questo sempre dal punto di vista di chi si diciamo così esibisce usato il termine che poi noi abbiamo messo più che altro l'accento sull'emozione come commozione però non è detto perché un'emozione ci sono emozioni anche di allegria diciamo no no non è detto che sia commozione il trasporto emotivo si si uno scatto di ira o di ira o di riso diciamo un testo comico scritto da sé ecco pensate un attimo un autore comico che che ride di se stesso io lo perdono molto meno esatto esatto e purtroppo molti lo fanno non tutti devo dire però alcuni alcuni ci marciano ma infatti perché perché lo perdoni meno perché lì è una componente è come se ti volessi spingere ti tirano per la giacchetta vedi rido anch'io e poi tu lo identifichi con una reazione di autostima eccessiva guardate come sono bravo no mentre al contrario una reazione come la commozione ti dimostra l'umanità della persona è sempre il contesto informale è una cosa il contesto formale e non si intende per formale giacca e cravatta ma il contesto formale è un'altra ad esempio per citare un caso che secondo me diventa divertente come analisi proprio LOL lo show di Amazon quello dove non si deve ridere lì si vedeva molto bene i professionisti della comicità come per ogni tanto si sorprendessero da soli della propria battuta e finissero a riderne e infatti infatti almeno un paio di persone sono uscite per aver riso della propria battuta ma non tanto per per edonismo o per eccessiva stima nei confronti della propria comicità ma proprio perché effettivamente si sono trovati comunque c'era anche una situazione abbastanza di tensione perché se c'è una cosa difficile è non ridere non ridere impegnarsi a non ridere assolutamente assolutamente sì però appunto mi ha colpito il fatto che una parte bravi oltretutto fossero riusciti per aver riso della propria battuta ma perché in quel momento gli era riuscita talmente spontanea o talmente non preparata ma talmente naturale che effettivamente quando gioca è al contrario si sono riascoltati ascoltandosi si sono trovati a riuscire perché lo scambetto dovrebbe arrivare almeno teoricamente dagli altri che ti fanno ridere quindi perdi invece a volte esatto per cui dico nel contesto informale è anche quasi normale sorprendersi ogni tanto perché ogni tanto il tuo pensiero va più veloce della tua consapevolezza per cui prima lo dici poi ma nel contesto formale dove si presuppone che tu sia un professionista o comunque sia professionale anche se non sei un professionista e tu abbia preparato quel contenuto ci può stare alla fine dopo tutto mi è capitato di vederlo in un concerto ad esempio un concerto per la giornata della memoria nel momento finale dell'apoteosi del dove poi c'era di nuovo tutti gli artisti di nuovo sul palco di vedere persone commosse di vedere artisti professionisti commossi ma non durante ma non durante certo certo perché lì ne va della riuscita della tua performance c'è anche un'attenzione che tiene sulla l'attenzione che non vuol dire l'ansia è tutt'altro ma un'attenzione in senso positivo che tiene su l'esibizione e che non può mancare per quello voglio dire teniamo sempre a mente su questo batto e batto tanto ma perché effettivamente è la cosa che sottovalutiamo di più teniamo sempre a mente il contesto e tutto quello che gira intorno a quello che stiamo facendo assolutamente cioè se è un gruppo di lettura anche online offline come vogliamo e ci commuoviamo per aver portato il nostro testo e averlo condiviso con le persone quello probabilmente sarà un momento emotivamente molto toccante per tutti i partecipanti perché si sentiranno coinvolti in qualcosa di personale ma se io pago per andare o prendo un biglietto gratuito non pago oppure compro un biglietto anche gratis per andare a seguire un recital una lettura un monologo non mi non so io spettatore non ho lo stesso tipo di approccio e di atteggiamento come andare in un gruppo di lettura tra pari e sentirmi coinvolto ti hai delle aspettative in qualche modo io mi aspetto di essere portato all'interno di qualcosa che è stato preparato per me che è diverso c'è anche da dire che se comunque un attore si commuove perché il personaggio si commuove e sa rientrare nel ruolo cioè non fa sì e dovrebbe essere così che non cioè non fa sì che questo episodio lo porti fuori del tutto allora quello può diventare un valore aggiunto perché comunque fai partecipare un po' tutti della commozione però torniamo a dire che la misura esatto è la misura e anche la gestione dell'episodio insomma un altro caso e questo è il secondo caso diciamo che ci ha colpito riguardo leggere testi propri ma allargando quando il testo non è proprio ma sentiamo una grossa empatia una particolare empatia nel nostro caso appunto la nostra cara academist ha letto un testo di un di una persona che non conosceva ma è diventata ahimè famosa perché diciamo la lettera di commiato di un professore di filosofia che è stato poi riscoperto dopo tre anni dopo una tragedia ebbene in questo caso chi leggeva trovava visto che era stato un suo collega diciamo anche se non si sono conosciuti direttamente una profonda vicinanza perché in questa lettera di commiato questo professore scomparso raccontava scriveva dell'ultimo giorno di scuola di pensionamento e parlava dei ragazzi parlava dei ragazzi tre anni fa poi dopo dopo tre anni appunto quest'anno è successa la tragedia ebbene abbiamo proprio percepito dalla voce di chi leggeva un attaccamento empatico molto molto forte che la portava a dare di più dal punto di vista qualitativo uno scatto ma molto marcato che non è giustificato dalla questione temporale dici vabbè ma io sono passati tre anni che leggo voce alta e quindi miglioro no no proprio da una settimana all'altra questo è proprio un caso in cui la partecipazione empatica però ti fa entrare più dentro e non ti porta fuori dal eh ma anche qua consideriamo il fatto del della conoscenza del testo sì della conoscenza del testo cioè probabilmente se lo stesso testo fosse stato dato alla stessa persona ma senza averglielo fatto leggere prima probabilmente avrebbe bloccato nella lettura perché la preparazione è fondamentale perché diventa troppo probabilmente diventa troppo da gestire invece il fatto di conoscere il contenuto anche proprio verbale cioè il contenuto semantico del testo ha fatto sì che potessero emergere le emozioni e i punti di vicinanza col proprio trascorso quindi ha potenziato ma proprio perché ok so cosa c'è so cosa dice è come guardare un film horror la seconda volta ok vabbè non ti fa più tanto so cosa succede magari mi prendo lì per lì mi spavento però so cosa succede e riesco a magari guardare la fotografia riesco a guardare magari gli effetti speciali come hanno fatto i strani o dal fatto emotivo e dico ma guarda 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 come hanno fatto bene questo effetto speciale di questa cosa che succede perché mi sono distaccato leggermente alla prima visione alla prima visione non guardi il perché alla fine entra il palio encefalo lavorare esatto e salvare proprio la salvaguardia della propria esatto sopravvivi quindi non non hai modo di far entrare tutta la parte razionale per analizzare le cose mentre quando puoi puoi da una parte dal punto di vista razionale sapere cosa succede allora ti puoi concedere che le emozioni entrino nel darti una dimensione in più ti fanno comprendere meglio il contenuto cioè ti fanno esaltare il contenuto sì è come banalmente quando leggiamo qualcosa che ci piace particolarmente non dico che sia automatico leggerla bene però però aiuta che è un testo che ci piace perché quindi ci muove qualcosa anche in uno strato superficiale quindi ovviamente qualcosa che invece ci muove in uno strato più più profondo ci sta sì sì emozione vi porto un esempio da un altro mondo che non c'entra nulla con il apparentemente non c'entra nulla con l'espressività ma c'entra col teatro da una parte e c'entra con il fatto della conoscenza dall'altro seguivo l'altro giorno un webinar riguardo le tecniche di memoria un mentalista showman che di mestiere fa show quindi fa performance dove impara un libro a memoria cioè recita la singola pagina con tutti gli elementi sia nel testo sia nella grafica e tutto il resto per ogni pagina del libro eccetera eccetera la cosa che ho trovato interessantissima di quello che raccontava del suo processo era che fatto 100 il momento di studio del testo per impararlo a memoria 80 erano dedicati a capire il senso 80% dedicato a capire il senso del libro 20% a ricollegarlo alle pagine alla grafica perché diceva se io capisco ho chiaro quello che dice ho chiaro il discorso chiaro come poi mi rimane poi mi rimane semplice associarlo con le mie tecniche di memorizzazione associarlo alla pagina associarlo allo stile grafico come volerlo fare all'immagine che c'era perché io poi devo parlare di questa cosa io prima la devo capire e come farlo proprio in qualche modo quindi diceva io se dovete scegliere tra se avete poco tempo dovete scegliere tra imparare a memoria qualcosa o capire capite nel senso cercate impiegatelo per capire cosa dice interessante e questo paradossalmente va anche contro tutto quello che si ascolta spesso sulla sulla lettura veloce sulla cosa ah sì sì due impressioni quando un mentalista un esperto di tecniche di memoria ti dice io impiego la gran parte del mio tempo a capire cosa c'è scritto lì sopra questo vuol dire che dà anche tante ancore emotive eh sì eh sì non solo eh superficiali cioè se capire un testo significa anche dargli del interiorizzarlo dargli delle valenze e questo non volevo portare tanto fuori il discorso però era per dire probabilmente il riuscire a comprendere dal punto di vista anche del significato semantico e del senso che ha per me un testo mi può aiutare poi nel secondo momento a renderlo espressivo sì invece che farmi bloccare dal dall'emotività non dall'emozione ma dall'emotività sì poi di contro e vi lascio la parola su questo c'è quello che diceva anche spesso Filippo Carrozzo eh ti salutiamo eh ciao sul discorso della scoperta del testo leggendola l'impronta infatti leggere l'impronta aiuta la scoperta del testo ma a mio modestissimo parere e chiedo anche a Maria Grazia soprattutto come come docente di teatro e regista ma solo secondo me se hai gli anticorpi giusti cioè bella questa mi piace molto anche a me bella questa sì sì perché comunque gli anticorpi sono di diverso genere ma mi viene anche in mente la difficoltà che a volte fanno gli attori gli allievi attori sulla memoria perché la memoria è di nuovo mi rilascio a quello che dicevi tu prima no cioè è vista come comunque qualcosa di impegnativo dopodiché potrò padroneggiare poi in realtà è abbastanza vero che se impari il testo a memoria la parte poi la padroneggi di più è anche vero che invece quando leggiamo non c'è questa componente della memoria in campo perché abbiamo in lettura abbiamo il testo e lo dobbiamo restituire io capisco il discorso che fa Filippo credo perché comunque un primo approccio al testo ti muove in modo semplice intendo dire come opposto di complesso no? e quindi rischi di rifacendolo non trovare più quello spunto quel guizzo però è anche vero che se non hai molta esperienza se ti lasci giusto sopraffare dall'emotività se sei una persona che facilmente si distrae allora lì invece c'è bisogno della preparazione che per carità non è un obbligo di legge però però aiuta nella maggior parte delle persone aiuta poi invece appunto il guizzo dell'impronta è interessante certo bisogna anche sapere uscire fuori dall'unpass dell'autogiudizio no? dunque mi danno da leggere una pagina una pagina che non ho mai visto prima ce la farò no? allora lì meglio buttarsi con delle accortezze come abbiamo detto tante volte parlando della lettura all'impronta qua mi fa venire in mente un altro spunto ovvero sempre un lavoro per cui era coinvolto Filippo ma vabbè non citiamo né il lavoro né altro ma in cui è stato chiesto a lui e all'altra professionista che ha lavorato con lui di registrare a prima vista un testo perché era quello proprio l'obiettivo l'obiettivo era quello di scoprirlo insieme all'ascoltatore però qua mi ricollega a un tema che abbiamo già trattato e magari ritratteremo ancora meglio e che comunque trattiamo in academy e nel nostro magazine ovvero sulla scrittura a voce alta quanto conta a quel punto la scrittura perché se io so che la persona che leggerà il testo o leggerà l'impronta dovrò stare molto attento a dargli segnali stradali per fargli fare il percorso corretto per cui la sorpresa ci sta ma devo cercare di non farlo finire in un vicolo cieco o in un burrone cosa che normalmente diciamo in condizioni normali più delle volte perché chi scrive magari non pensa che poi sarà letto a voce alta per aver dato un suono magari non quindi lì c'è l'importanza dell'autore del testo che sa che dovrà essere letto all'impronta questo spunto qui io direi che potremmo poi svilupparlo a breve tornando a quello che dicevamo all'inizio leggere un testo proprio non ti esime dalla partecipazione emozionale che può anche diventare lasciarsi prendere eccessivamente dall'emotività però razionalmente tu sai per averlo scritto sai quantomeno il sentiero dove porta ecco e grosso modo come fatto anche se io dico sempre il fatto di aver scritto un testo specialmente qua mi riallaccio al discorso teatro il testo teatrale non è che il fatto di averlo scritto renda più semplice l'interpretazione ma anche arrivo a dire la memorizzazione del testo però sai sai conosci grosso modo la strada e questo è un vantaggio e comunque ci tengo a dire che non abbiamo volutamente toccato il tema di chi si autocompiace perché questo è proprio pochissimo interessante però mi sento di chiudere con un consiglio per chi volesse mettersi nell'ottica di leggere un proprio testo ovvero di darsi la possibilità di commuoversi ma dandosi lo spazio adatto cioè se tu leggi il tuo testo ti prepari per farlo e ti concedi uno spazio alla fine per commentarlo o per raccontarlo con le tue parole non più letto ma per raccontare con le tue parole un dietro le quinte o il perché o la cosa lì è assolutamente fondamentale che tu ti commuova perché è come lo stai pensando in quel momento stai condividendo con le persone per cui staccare il momento della lettura magari anche molto professionale dal momento in cui ti puoi concedere di 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 essere emotivo ovvero nel momento in cui io ti racconto il perché l'ho scritta o cos'è che me l'ha fatto venire fuori magari un racconto della mia vita è una cosa molto importante ma nel momento in cui te la leggo io l'ho preparata talmente bene che a tranne magari qualche inclinatura sulla voce che quella assolutamente anzi diventa una specie di corollario al momento della preparazione quello assolutamente sì ma mi mi prendo il mio tempo alla fine per poter essere emozionato dell'aver condiviso quel testo con il pubblico cioè lo porto in un altro in un altro spazio condivido col pubblico un momento mio e torno a essere una persona non torno a essere più il mezzo che ti porta il testo allora lì potrebbe essere valorizzante per entrambi gli aspetti quello della lettura dove io te la porto nel modo più efficace possibile e dall'altra parte poi torno a essere autore la persona che l'ha scritto e condivido invece la mia parte emotiva col pubblico proprio la condivisione però bisogna esserne consapevoli e soprattutto appunto tornare chiudere parlando di contesto cioè devo essere consapevole del contesto e costruirmelo in modo da poter valorizzare le varie componenti ci ho detto prima che manchi di nuovo la corrente sarà meglio salutarci sarà meglio salutarci ciao ciao a presto ciao 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 ciao